Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino al 30 novembre, per lavori di manutenzione ordinaria, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, istituito il ristringimento di carreggiata tra le uscite Salerno Centro e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni di intratti saltuari. Il cantiere è sospeso i giorni festivi e prefestivi. Sulla raccordo Salerno Avellino fino al 31 dicembre, per lavori segnaliamo carreggiata ridotta nel tratto compreso tra le uscite sull'Ofro e Montoro Nord, verso Salerno. Sulla tangenziale di Salerno fino al 20 ottobre attiva la riduzione di carreggiata tra gli svincoli Salerno-Est e zona industriale in direzione Fratte. Sulla strada statale 166 degli Alburni fino al 29 dicembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo il senso unico alternato su tutto l'asse in tratti saltuari. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Grazie a tutti.